Samuel Stern numero 35, la setta. Ragazzi, manco a dirlo, manco a dirlo, volevo essere puntuale questo mese e fino a due giorni fa non ho trovato questo numero di Samuel Stern in edicola, quindi mi scuso già per il ritardo, ma cominciamo subito. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Bugs Comics, nella rubrica Samuel Stern. Parliamo oggi appunto di Samuel Stern numero 35 dal titolo La Setta di Filadoro, Fumasoli e Saveniago, la sacra trinità o la demoniaca trinità dell'Ibraio di Edimburgo e i disegni sono ad opera di Yuri A. Di Curzio che, come dice Gianmarco Fumasoli nel suo editoriale, è alla sua prima esperienza su Samuel Stern e da qui proprio vorrei partire. Le tavole di questo numero, La Setta, sono molto classiche, in un certo senso mi hanno ricordato anche quasi uno stile, non lo so, anche il ritro come incasellamento delle tavole, ma quello che è disegnato all'interno, che è comunque uno stile classicissimo, l'ho trovato al contempo stesso molto dinamico. Non so come spiegare questa sensazione, ma il lavoro che è stato fatto su quest'opera dal punto di vista del disegno è davvero egregio. Non so se si arti, però la sento. E lasciatemi dire che la scelta, soprattutto quando si trovano poi nella casa, in questa ambientazione dove si ritrovano rinchiusi in una casa, ha dato un che di claustrofobico. Cioè questa griglia, molto classico, questa griglia a sei all'interno della casa, dà proprio l'idea che non ci sia via di fuga, non ci sia modo di scappare da questa casa. Una sensazione che per esempio ho trovato molto più presente in questo numero che non nel numero Dylan Dogg Io Ti Proteggerò. Ed è proprio per questo che io voglio parlare con voi del numero 35 prima di Dylan Dogg, perché io il Dylan Dogg Cavalcando il Fulmine l'ho già letto, se avete visto la mia live con Pelati e Fumetti e con Luca DJ e con Kuro del Canale di Kuro l'ho già letto, ma la recensione su Dylan Dogg Cavalcando il Fulmine ne uscirà domani. Ho voluto parlare con voi della setta perché mi ha ricordato in un certo senso l'atmosfera claustrofobica di Io Ti Proteggerò di Dylan Dogg. Però devo dire che qui, grazie proprio alle tavole, l'ho sentita molto più presente. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace o non mi piace a questo video, e anche a tutti gli altri, che ve frega, condividete il video con tutte le persone che sono uscite da una setta e commentate qui sotto con quello che viene parso di questo numero e del corso di Samo Esterna, di come sta andando Samo Esterna, anche perché tra un mese saranno ben tre anni che il rosso sarà con noi nelle nostre case e nelle nostre edicole. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch. Questa settimana ci saranno due live, una a tema cosplayer domani sera e una con un nuovo format che vi invito tutti a seguire caldamente, che si terrà giovedì sera insieme al caro amico Mattia Mazzo. Sempre qua sotto in descrizione potete trovare anche il link per iscrivervi al fan club Sterniani. Vi ricordo che se vi iscrivete al fan club Sterniani, soprattutto a fine anno, vi arrivano dei fantastici gadget per aderire a questa setta. No, a questi Sterniani, che non sono una setta ma sono degli affezionatissimi. Quindi aprite la descrizione sempre, soprattutto nei video su Samo Esterna, e iscrivetevi al fan club. Bene, abbiamo parlato di chi l'ha scritto, di chi l'ha disegnato, abbiamo parlato delle tavole, abbiamo parlato dei disegni. Andiamo a parlare della storia. La storia mi è piaciuta molto, 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 molto. Devo dire una cosa, mi è piaciuta anche molto del numero scorso. Allora, adesso vado a spiegare perché e poi ci concentriamo veramente su alcune cosette anche a livello registico di questa storia. Diciamo che il numero scorso, come spesso capita in Samo Esterna, che quando getta le basi per il futuro della lore, della mitologia di Samo Esterna, ci si concentra magari un pochino meno sulla storia in sé. La storia in sé è anche interessante, ma vuoi perché è stata disparata su quattro personaggi, quindi su Penny, su Samuel, su Duncan e su Angus. Vuoi perché appunto hanno voluto gettare le basi per quello che c'è adesso in gioco, dopo Abisco, nel mondo di Samo Esterna. Quindi ci sono questi Barney e l'altro tizio che hanno l'equilibrio sull'Apocalisse. Poi ci sono i giostrai che hanno l'equilibrio dall'altra parte, insomma, ci sono anche queste forze in azione che prima non c'erano. Poi vi ricordo sempre ci sono le possessioni angeliche, c'è l'agenzia, c'è anche un'altra strana setta che non è questa, ma è un'altra specie di setta che sta osservando Samo Esterna. Insomma, ci sono tantissime pedine in gioco e quando ci sono così tante pedine in gioco appunto la storia di per sé è interessante, però ecco, nella nostra tier list che abbiamo già fatto, per esempio, su Samo Esterna, se non l'avete vista su Twitch, poi vi metto qua il link in descrizione, non la metterei ecco proprio al primo posto ma al secondo posto. Questa, la setta, invece sicuramente è sopra di una tacca. La storia mi ha davvero rapito. L'ho letto, volevo leggerlo ieri sera, mi ero molto stanco, l'ho letto stamattina alle sette del mattino e l'ho divorato. E per svegliarmi alle sette del mattino, ragazzi, ce ne vuole. Mi piace molto la struttura anche che ci butta direttamente nella storia, cioè noi non sappiamo subito che cacchio ci fa Samuel in una foresta con un certo Liev, Lev, non so come si chiama, con un certo tizio che principalmente, scusate, inizialmente mi ha ricordato un po' quello dell'agenzia, Gillian. Poi però appunto lo chiama con un altro nome e non sappiamo perché siamo già dentro l'avventura, perché siamo già dentro la storia. Veniamo piombati a capofitto in quello che loro stessi stanno vedendo ma senza le informazioni che loro hanno. Una formula un po' coraggiosa ma devo dire che subito dopo qualche pagina, precisamente a pagina 26, ci viene raccontato l'inizio di questa storia. È un fantastico modo per, a livello narrativo, per dare un po' di pepe al tutto, per non lasciare una trama un po' noiosa, appunto, dato che è molto claustrofobica per la quantità di tempo passati segregati appunto in questa casa in cui cercano di scappare dalla setta, è molto bella, soprattutto all'inizio, la storia raccontata come l'hanno raccontata, ovvero subito catapultati nella storia, flashback del motivo per cui siamo arrivati fin qui, si ritorna al presente. Un espediente narrativo che io, se fossi uno scrittore, non ci arriverai mai a farlo, perché probabilmente non sono abbastanza bravo, ma quando lo trovo da lettore mi piace davvero tanto. Fatto sta che Samuel e Duncan sono stati chiamati a risolvere una possessione demoniaca particolarmente pesante, dove appunto il ragazzo, oltre a essere appunto posseduto, a emanare, a parlare con la voce di un demone, emana una specie di nebbia dalla bocca, una specie di fumo nero dalla bocca, che infesta tutta la stanza. E questo fa subito capire a Samuel che c'è qualcosa di molto più pesante. Nei pochi momenti in cui il ragazzo non è posseduto, cerca di fargli capire quello che può ricordare. E ricorda appunto queste tuniche, queste maschere, che sono appunto quelli della setta, che hanno anche rapito delle persone. Perché insieme a Samuel Stern e Duncan, dovete sapere che i genitori di questa famiglia avevano assunto anche dei tizi per andare a prendere questo ragazzo dalla setta. Perché appunto questo ragazzo era un accolito di questa setta, era entrato in questa setta di sua volontà. Ed è questo il punto focale rispetto, per esempio, alle altre possessioni o anche a quello che abbiamo visto all'inizio, ovvero con il collega di questo tizio che è stato mutilato dalla setta medesima. Il ragazzo posseduto non è stato invece rapito dalla setta, ma è entrato di sua volontà. Ed è qui che si gioca appunto la presenza delle persone che sono state pagate per rapirlo dalla setta e riportarlo in famiglia. Pare che questi adepti della setta, oltre a fare un cerchio tutto intorno alla casa e segregare appunto Samuel Stern e quelli che pensiamo siano i buoni, riesce anche a parlare attraverso le persone morte. Per esempio parla attraverso l'altro tizio, perché erano tre i tizi inizialmente. Uno è morto all'inizio, gli hanno cavato gli occhi, gli hanno tagliato la testa, gli hanno fatto di tutto. C'è il tizio biondo che è il capo, questo Lev, e poi c'è l'altro tizio che viene trafitto appunto da un pezzo di legno. E nel momento in cui appunto muore, viene appunto posseduto da quella che è la setta, la setta fuori. In questo modo riesce a comunicare con Samuel. E guarda caso viene detta una cosa molto strana, ma che non è la prima volta che sentiamo. Vero Samuel Stern deve aiutarci, non siamo tuoi nemici. Quindi si può pensare di nuovo a un demone che chiede aiuto a Samuel Stern per scappare da delle possessioni angeliche, dai posseduti degli angeli. Questo lo abbiamo già visto. Però è strano che possa essere questo, dal momento che questo grido di aiuto viene appunto da una setta. Allora cosa c'è sotto? E la cosa si fa interessante, il plot twist finale mozzafiato, è dato dal fatto che ci sono in gioco anche due fazioni tra i villain, due fazioni tra i cattivi, due fazioni tra i demoni. Si va proprio a pescare a piene mani anche dai tanti nomi del demonio, del diavolo, e ci... e si gioca molto sul fatto che in realtà siano proprio delle entità demoniache diverse. Si scopre che il primo genito appunto di questa famiglia era stato allevato per essere devoto al demone Baal, al demonio Baal, che è un'entità demoniaca reale nella mitologia cristiana, cattolica, nella storia, diciamo, della demonologia. Esiste questo nome, esattamente come esiste Legione. Innanzitutto scopriamo il plot twist, ovvero i ricordi di questo ragazzo posseduto non venivano dalla setta, ma venivano proprio dai suoi genitori. Suoi genitori sono i veri cattivi, sono i veri villain che sono devoti al demone Baal e scopriamo che non hanno solo indottrinato il primo genito, ma anche la seconda figlioletta che sembra avere delle crisi epilettiche che invece si rivelano essere una vera e propria possessione da parte di questa entità Baal e subito viene distinta da una possessione classica perché ha una forma completa davvero, davvero mostruosa. Scopriamo invece che questa setta, che è questa setta di persone mascherate, hanno tutte il cranio sfondato da dei piccoli tentacolini, quindi sono fondamentalmente morti e quello che si può dedurre è che sono tutte persone ex adepte di Baal che sono state, diciamo, esorcizzate dall'entità demoniaca concorrente, ovvero il famoso informe, il diavolo. L'entità che abbiamo sempre chiamato informe dall'inizio della storia di Samuel Sterna fino ad ora non è Baal, sono due entità diverse e si fanno un po' di concorrenza. Scopriamo che l'informe appunto è il più antico di tutti e Baal è semplicemente, tra molte virgolette, uno dei primissimi demoni, uno dei primissimi eresiarchi che l'informe stesso chiama traditore e quindi c'è appunto un po' di maretta in casa demonio. E quando nel finale c'è la sorellina super posseduta da questa entità Baal e nemmeno Samuel riesce a farci nulla, è proprio il fratello maggiore posseduto dall'informe che riesce a toccarla, esattamente come Samuel Sterna tocca le persone possedute e riesce a esorcizzarla. Ma vediamo che nel processo tutti questi filamenti stanno uscendo proprio dagli orifizi del volto della sorellina. Samuel Sterna riesce all'ultimo a far tornare in sé il fratello, il fratello maggiore, perché se no facilmente sarebbe esplosa anche la testa della sorellina che sarebbe diventata un'altra degli adepti della setta. Fermandolo all'ultimo secondo, il fratello maggiore riesce quantomeno a salvare la sorellina che non è più posseduta da Baal. Peccato appunto che Baal si vendica facendo appunto esplodere il fratello. Baal si autodefinisce il più antico e grande dei figli dell'uomo. Vi ricordo che già in passato i demoni si sono autodefiniti i figli dell'uomo, esattamente come gli esseri umani ma anche come il figlio dell'uomo per antonomasia, no? E c'è questa, come si dice, questa definizione che fa tanto arrabbiare Duncan. Duncan, per Duncan è una bestemmia che i demoni si chiamino i figli dell'uomo. E voglio andare a... voglio capire dove andranno a parare anche in questa faida interna. Samuel Stern aiuterà i figli dell'uomo a scappare dall'informe che appunto è presente in legione, che è l'inferno dei demoni, oppure aiuterà l'informe a punire i traditori che sono scappati da legione per rimandarceli e pulire la terra. Da che parte starà? Ci sono ormai tantissime fazioni in ballo e in questo numero più che nei precedenti ho goduto a vedere come si sta dipanando il mondo di Samuel Stern. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, fatemi sapere cosa ne sapete di demonologia, se questo numero vi ha spaventato, se questo numero vi ha entusiasmato, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Ah, dimenticavo perché magari non vedete gli altri miei video maledetti, quindi se vedete solo i video di Samuel Stern sappiate, l'ho già detto, mi troverete a Lucca tutti e cinque i giorni, quindi se volete fare due chiacchiere ci possiamo incontrare per esempio al padiglione della Bugs, che è il padiglione Napoleone, mi scrivete su Instagram, mi dite quando siete lì o posso fare un salto, sperando che la coda non mi rallenti troppo. Grazie ancora e arrivederci.